Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio, oggi parliamo di editing fotografico, di immagini paesaggistiche di tramonti. Sarà una tecnica che in realtà si può applicare su vari software, quindi prendi quella di Lightroom come un riferimento se tu non utilizzi Lightroom. E tutto parte da una cosa molto semplice che mi ha fatto riflettere. Ho visto durante questi giorni un video di Mark Daney, un content creator youtuber americano fotografo, che mostrava una tecnica che in realtà è una tecnica che conosco anch'io, che applico anch'io tante volte sulle mie immagini. E questo mi ha fatto pensare al fatto che spesso io tante tecniche le conosco, le applico in modo del tutto normale, semplice, ma sono tecniche che in realtà magari molti di voi non conoscono e magari io spiego solo in qualche corso molto specifico di quelli che ho disponibili, trovi tutti i link qui sotto nelle note dell'episodio. Ad ogni modo ho deciso di parlarti di questa tecnica perché è molto semplice ma molto efficace. E salvevi un po' a fare quello che vogliamo tutti, ovvero le fotografie dei tramonti, dargli quella marcia in più per renderle un po' più interessanti. Infatti vedi queste immagini molto belle con dei colori molto particolari, piacevoli insomma. Vediamo insomma questa tecnica come si può applicare col color grading di Adobe Lightroom. Prima di iniziare come sempre ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, trovi tutti i pulsanti qui sotto e anche i pulsanti per eventualmente condividere questo episodio sui vari social network, Whatsapp, Instagram, Telegram, dove vuoi. Ma adesso andiamo su desktop del mio computer e partiamo con la prima foto. Inizio con questa immagine che ho realizzato nel comprensorio delle tre cime di Lavaredo, è l'alba, il sole sta sorgendo e illumina pian piano tutte le vette. Su questa immagine ho già fatto degli interventi di base, ma quello che voglio fare io è enfatizzare un po' di più la tipica dominante dell'alba o del tramonto come vedremo nelle prossime foto. E vado a sfruttare il pannello color grading con gli strumenti al suo interno, quindi apro color grading. Come puoi notare quando io ho aperto color grading si è chiuso il pannello di base. È una cosa che spiego qualche volta nei miei video, in sostanza nella colonna di destra dove abbiamo tutti i pannelli di sviluppo, tasto destro e attiva la modalità solo. Questo ti permette di aprire un pannello e chiudere in automatico tutti gli altri. Tra l'altro potrai anche notare che la sequenza di pannelli non è la stessa che hai nel tuo Lightroom. Anche questa si può modificare direttamente dal menu della colonna di destra, tasto destro, personalizza pannello di sviluppo, puoi decidere quali pannelli visualizzare o nascondere anche, ma puoi anche regolare la combinazione dei pannelli in base a come desideri. Ad ogni modo torniamo sul color grading. Lo strumento è composto da tre ruote, anzi sarebbero di più, sarebbero quattro, perché ti permette di intervenire sulle ombre, sulle luci, sui mezzi toni o anche a livello globale. Nel nostro caso, essendo un'alba, quindi il sorgere del sole, la parte più interessante che dà la dominante è la luce del sole che colpisce le creste delle montagne, quindi io andrò ad intervenire sulla dominante delle luci. Quindi dal pannello del color grading io potrei agire direttamente qui sulle luci, ma per comodità vado a visualizzare la singola ruota delle luci. Vedi che qui ho la possibilità di passare a ombre, mezzi toni, luci o livello globale. Andiamo sulle luci. Quello che devi fare è prendere una dominante che è già presente nella scena, perché si può intervenire manualmente qui da no a dominante, ma può essere dischioso. Quindi quello che ti consiglio di fare è cliccare su questo menu dei campionatori. Qui hai dei campioni personalizzati. Clicco sul campionatore manuale, tengo cliccato e vado sopra l'immagine. Vedi che in base a dove mi posiziono cambia l'estetica della scena e vedi anche nella ruota a destra come qui. Andrei a campionare dei colori più freddi e qui dei colori più caldi. Quello che faccio io è andare sulle zone dove c'è una dominante più calda colpita dalla luce dell'alba del sole e vado a scegliere un punto che mi interessa. Non vado solitamente a prendere le zone più chiare, ma mi soffermo sulle zone qui leggermente più scure. Quindi prendo ad esempio questa dominante, mi piace e lascio. Se noi andiamo a vedere qui la ruota delle luci, vedi che ha campionato questo arancio un po' tendente al rosso particolare. Andiamo a vedere prima, dopo. Prima, dopo. Come hai potuto notare già questo semplice intervento ha migliorato l'estetica dell'immagine, ma non si tratta di stravolgere la scena, perché in quell'istante io stavo utilizzando una fotocamera digitale e non è detto che le fotocamere digitali vadano a rappresentare la realtà, anzi il contrario. Spesso quello che ottengo è un po' diverso da quello che sto percependo e vivendo in quel momento. Quindi questo intervento mi aiuta anche magari a rendere l'immagine più realistica. E tra l'altro non vado ad applicare una dominante che non esiste, ma vado a prendere una condizione che magari era già presente e vado a renderla appunto più presente, più evidente per rappresentare la realtà come la provavo io, oppure semplicemente per dare una marcia in più all'immagine. Ma non si ferma qui l'intervento, io posso fare anche degli interventi aggiuntivi. Infatti lo strumento color grading mi permette di agire oltre sulla tonalità, ma l'ho campionata, sulla saturazione e luminanza. Ad esempio sulla saturazione io posso decidere di rendere il colore e la dominante un po' più intensa. Ma una cosa che mi piace molto è la luminanza, perché questa mi permette di aumentare la percezione anche del contrasto. La luminanza va ovviamente, come fa a intendere la parola, ad agire sulla luminosità, in questo caso delle luci, e quindi guarda, vado ad aumentare un po' la luminosità e questa cosa mi piace parecchio. Vediamo, prima, dopo. Qui sotto abbiamo fusione e bilanciamento. Questi interventi mi permettono di decidere come fondere l'intervento, portandolo a zero praticamente si annulla l'intervento. Se lo porto a valore massimo ovviamente stravolge l'immagine, posso in sostanza dare un po' più di intensità a tutto l'intervento tonalità, saturazione e luminanza. E qui al bilanciamento. Il bilanciamento è una cosa particolare, perché quel strumento mi permette di decidere se dare precedenza, importanza agli interventi sulle ombre piuttosto che sulle luci. E come puoi intendere, quindi si tratta di un regolatore che va ad agire quando tu metti le mani sia sulle ruote delle ombre, sia sulle ruote delle luci, sia dei mezzi toni. Quindi questi due ultimi interventi, fusione e bilanciamento, sono degli interventi globali che vanno a colpire tutte e tre le ruote dei colori, quindi vanno usati con attenzione. In questo caso io sto agendo solo sulle luci, quindi dar precedenza alle ombre che non ho fatto nessun intervento significa annullare l'intervento. Ma ad ogni modo, se faremo più interventi, possiamo dare importanza alle luci o alle ombre. Nel nostro caso lo lasciamo a zero. Ma adesso passiamo ad un'altra immagine. Eccomi con una seconda immagine, questa volta stiamo parlando di un tramonto ed esattamente come prima ho fatto degli interventi di base sull'immagine ma voglio intervenire sulla color per enfatizzare un po' la luce del tramonto. Quindi vado a prendere color grading, vado ad agire sulle luci come ho fatto prima, prendo il campionatore, campiono, vado qui sopra e vedi che è molto interessante. In base a dove mi posiziono posso ottenere delle atmosfere più o meno incisive. Ad esempio a me piace questa qui, quindi prendo questa campionatura ecco qui sulla ruota dei colori un arancio e potrei agire sulla saturazione per intensificare un po' di più e sulla luminanza, vedi, per dare un po' più di luce del tramonto andare in negativo solitamente non funziona bene quindi do un po' di più. Voglio però agire anche sulle ombre in questo caso perché come lo sappiamo lavorare con i colori complementari è una cosa che piace all'occhio dell'osservatore quindi ho dato un po' di dominante arancio ai cieli potrei dare una dominante leggermente ciano blu alle ombre e rendere il tutto un po' più interessante. Proviamo, mi sposto questa volta sulla ruota delle ombre e vado o ad agire manualmente posso provare il campionatore ma avevo già testato e non mi trova nessuna dominante interessante è un ciano molto particolare che non mi piace ecco forse questo, questo potrebbe andar bene ecco utilizziamo il campionatore altrimenti andavo a campionare uno dei colori questo blu che era messo a disposizione se è troppo saturo come effettivamente lo è abbasso la saturazione quindi rendere l'intervento appena percettibile ok ci potrebbe star bene? sì probabilmente ma dal mio punto di vista comunque con l'intervento sulle ombre è un po' troppo incisivo questo perché la scena è prevalentemente scura quindi quella piccola dominante blu sulle ombre comunque va ad incidere in modo importante sulla scena e qui entra in gioco una funzionalità che avevamo già visto prima te l'avevo accennata ma prima non aveva senso utilizzare torniamo sul desktop e sto parlando del bilanciamento infatti il bilanciamento come ti avevo accennato prima ti permette di decidere se dare predominanza alle ombre o alle luci nel nostro caso abbiamo fatto un intervento sia sulle ombre sia sulle luci quindi agendo con bilanciamento se io vado verso sinistra negativo vedi che l'immagine diventa più blu perché dà importanza alla dominante sulle ombre al contrario verso destra dà una predominanza una importanza maggiore alla dominante sulle luci il default è a zero quindi cosa faccio io? decido di andare un po' in positivo per dare un po' più di importanza alla dominante delle luci ed ecco che magari intorno ai 50 può andarvi bene vediamo prima dopo prima dopo volendo posso esagerare se voglio creare quelle immagini instagrammabili come si usa dire ovvero veramente fuori dalla realtà ma che sono d'impatto e catturano l'attenzione procediamo adesso con una terza immagine giusto per avere una terza alternativa dove possiamo intervenire e vedere cosa possiamo fare questa è un'immagine diversa dalle altre perché non si capisce bene in modo evidente se si tratta di un tramonto o di un'alba sembra piuttosto una foto normale nella realtà qui era un tramonto ma il sole per le condizioni atmosferiche anche del cielo e tutto non stava creando una dominante molto interessante dal punto di vista dei colori ciò nonostante io cerco di enfatizzare un po' il tutto sfruttando color grading quindi vado su color grading vado sulla ruota delle luci prendo il campionatore e provo ad andare qui sulla parete della montagna a vedere se trovo qualcosa di interessante la parete è quella che rende meglio ed ecco magari potrei prendere questa campionatura qui eccola vedi questa dominante sul cielo che è molto piatto è molto difficile da sfruttare ma vediamo prima dopo prima dopo un piccolo intervento che comunque un qualcosa in più l'ha dato all'immagine ovviamente qui entra in gioco molto la soggettività cosa vogliamo dare all'immagine come vogliamo enfatizzarla se vogliamo trasmettere magari una sensazione un po' più di scena fredda piuttosto che calda insomma stanche a noi cosa possiamo fare io ti sto solo facendo vedere delle tecniche che puoi utilizzare e per questo video è tutto se ti è piaciuto ricordati di andare qui sotto lasciami un feedback dimmi cosa ne pensi e se ti è piaciuto il video metteci un like ricordati anche di condividere questo episodio con altri amici trovi tutti i pulsanti qui sotto per condividerlo con Instagram Whatsapp Telegram insomma altri social network ancora una volta ti ringrazio di avermi seguito fino a questo punto ringrazio anche tutti i sostenitori del mio canale se vuoi diventare anche tu un sostenitore trovi qui sotto il tastino per accedere a Patreon e darmi il tuo sostegno e per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ad Alessi ciao a tutti ciao a tutti